Il ciclocross sinceramente l'ho sempre seguito, già l'anno scorso mi era venuta l'idea di poter fare qualche gara però poi non mi sono organizzato, non l'avevo neanche proposto alla UAE, poi quest'anno alla fine ho finito di correre la stagione dopo una settimana del tour quindi abbastanza presto, quindi avevo veramente voglia di rimettere il numero sulla schiena e perché non ripartire dalla mia vecchia disciplina erano nove anni che non disputavo gare di ciclocross e devo dire la verità ho avuto le bici solo il 21 dicembre non ricordo male, le ho usate qualche giorno dopo e poi il 27 ho già corso ho preso così, ho preso in maniera abbastanza easy, in maniera spensierata, ho ritrovato un ambiente familiare delle persone che conoscevo già da tanti anni tra Scotti, Fausto, Bielli poi è bastata una telefonata con Cerenini per darmi una mano appunto a livello dei box eccetera eccetera poi mia compagna Maurizio, mio ex compagno di squadra nonché in questo momento fa il meccanico, un salone e quindi via dai, mi sto divertendo ma sicuramente il mondo del fuoristrada mi ha sempre piaciuto, mi ha sempre entusiasmato vengo da lì, vengo dal fango, vengo dal ciclocross, dalla mountain bike sono state le mie prime discipline stare così a contatto della natura mi ha sempre piaciuto e poi la strada diciamo che mi ha lanciato verso, insomma mi ha fatto diventare quello che sono adesso però devo dire grazie a queste discipline se sono diventato quello che sono adesso e soprattutto mi sto divertendo, è un'ottima palestra, un'ottima preparazione per la stagione su strada quella che sarà la mia stagione principale e sicuramente sai i vari casi dei vari Vanderpool, Van Aert, Pitcock insegnano come sia un'ottima palestra e logicamente vanno calibrate bene appunto le gare con gli allenamenti anche su strada anche perché io in settimana comunque sia mi alleno sempre per la stagione su strada facendo delle distanze eccetera quella che sarà la mia stagione principale però mi sto divertendo, sto facendo un gran bel ritmo Sicuramente a livello di tecnica mi manca tantissimo anche la gara dell'ultima tappa del Giro d'Italia di ciclocross a Porto Sant'Elpidio ho pagato tantissimo a livello di tecnica ogni giro pagavo, ogni curva, ogni difficoltà anche perché ho avuto tra virgolette un po' di difficoltà in più perché i percorsi delle gare che ho fatto sono sempre stati abbastanza viscidi con un po' di fango però a livello di condizione sono cresciuto molto dalla prima all'ultima gara in dieci giorni e quindi perché non continuare? La verità è che i vari Dorigoni, Bertolini, Pavan con cui si sta creando una bella amicizia mi hanno accolto benissimo sono dei ragazzi molto semplici abituati a stare con i piedi per terra quindi questo è molto importante e via dai, quindi super Ma si lascia il cross perché purtroppo nelle squadre soprattutto nella strada, nell'ambiente della strada spero che questo cambi col passare degli anni insomma, ho visto i vari Van Der Poel, eccetera Van Aert e Pitco sono ad esempio diciamo che c'è un po' la mentalità che il ciclocross non faccia bene che tolga qualcosa alla strada ma invece a livello di allenamento è sicuramente una disciplina, una palestra molto importante anche perché comunque ti permette anche in settimana di allenarti anche su strada e poi di fare qualche gara L'attiva non è assolutamente la prestazione e poi logicamente quando vado in gara cerco di sicuramente andare a tutta e andare in massimo ma questo è un fattore personale sinceramente non mi interessa il fatto di venire staccato o doppiato questa è una cosa che non avevo mai sempre inventivo alla fine uso le bici da cross da 20 giorni dopo 9 anni e quindi è plausibile che questo possa avvenire ma anche in queste gare che ho fatto adesso alla fine il mio obiettivo è prepararmi bene per la stagione su strada aver ritrovato degli amici aver trovato un ambiente che conoscevo e star bene fisicamente e mentalmente star bene